Buongiorno e bentornati all'appuntamento con IMSS Informa. Oggi parleremo nuovamente di quota 100 con una particolare attenzione al mondo dei dipendenti pubblici. Infatti quota 100 riguarderà una platea di dipendenti di oltre 156 mila dipendenti pubblici appunto. Ma vediamo quali sono i requisiti per arrivare a quota 100. Infatti è una misura sperimentale prevista solo per il triennio 2019-2021 in deroga al regime normativo vigente e i requisiti sono di natura anagrafica, quindi l'età di 62 anni, e di natura contributiva con 38 anni di versamenti. Quindi la somma di 62 e 38 rappresenta quindi la quota 100. Ma vediamo come si devono considerare i requisiti. Per i lavoratori privati dal 1 aprile 2019 solo per chi ha maturato questi requisiti al 31-12-2018. Per chi raggiunge invece il traguardo nel corso dell'anno la finestra mobile si aprirà dopo tre mesi dalla data del raggiungimento del requisito. Invece diversamente, andiamo avanti con le immagini, per il pubblico impiego la quota 100 partirà dal 1 agosto 2019 solo per coloro che hanno maturato i requisiti entro la data di entrata in vigore del decreto. Invece per chi raggiunge il traguardo nel corso dell'anno la finestra successiva si aprirà solo dopo sei mesi. Infatti la domanda dovrà essere presentata all'amministrazione di appartenenza proprio con un preavviso di sei mesi. Fanno eccezione i dipendenti del comparto scuola e AFAM per i quali la domanda va presentata, doveva essere presentata entro il 28 febbraio 2019. Una particolare attenzione per i lavoratori della scuola è che la prima possibilità di uscita è fissata al primo di settembre in linea con l'inizio dell'anno scolastico e con domande sempre presentate entro il 28 febbraio. Cosa c'è da sapere? Non c'è nessuna penalizzazione sulle regole di calcolo dell'assegno, sono esclusi dal quota 100 il comparto difesa e sicurezza, sono garantite le specificità del comparto scuola e quota 100 è una combinazione fissa, quindi chi ha meno di 38 anni di contributi dovrà attendere il compimento dell'età. Andiamo avanti. Chi non ha requisito contributivo può chiedere un riscatto di laurea oppure proseguire conversamenti volontari oppure computare i contributi figurativi che possono derivare dal servizio militare, dalla maternità, disoccupazione e mobilità. Stop agli scatti di età, infatti con la nuova legge la pensione non è più legata all'aspettativa di vita, è possibile quindi cumulare periodi assicurativi presenti in più gestioni. La pensione non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o da lavoro autonomo occasionale con i famosi 5.000 euro di soglia massima. Rimangono attivi però l'opzione donna, i lavoratori precoci e la pensione anticipata con le regole della legge Fornero. Per ulteriori approfondimenti vi invitiamo a consultare il portale dell'istituto all'indirizzo www.inps.it oppure contattare il numero verde all'803 164. Vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo appuntamento. Arrivederci.